Un albergo-ristorante-pizzeria di Mondavio perennemente illuminato giorno e notte, sia all'interno che all'esterno, anche in assenza di clienti. Un comportamento anomalo che, unito alla conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il gestore, ha indotto i carabinieri ad approfondire la vicenda. Insieme all'albergo, l'uomo è anche titolare di un bar, dove anche lì, guarda caso, in fatto di consumo di energia elettrica non si badava spese. I militari, dopo aver richiesto l'intervento di personale specializzato dell'Enel, hanno effettuato un controllo. Una volta giunti nella cabina in cui è installato il contatore e misuratore elettrico dell'utenza relativa al locale, da un primo riscontro è sembrato tutto nella norma. È bastata però una semplice verifica per scoprire il trucco. Interrotta l'energia, quasi tutti gli impianti del bar, illuminazione compresa, continuavano a funzionare. Approfondendo la verifica poi si è scoperto che parallelamente ai fili che accedevano al misuratore e ne fuoriuscivano per fornire corrente all'esercizio pubblico, c'erano alcuni cavi connessi direttamente alla rete, bypassando il contatore stesso. Il gestore ha giustificato il fatto, sostenendo che recentemente aveva commissionato la manutenzione dell'impianto ad un elettricista, di cui non ricordava il nome e il telefono, e ovviamente non aveva preteso la fattura. Esteso il controllo all'albergo-ristorante, gli agenti insieme ai tecnici dell'Enel hanno scoperto che l'uomo non aveva nessun contratto di fornitura di elettricità. Inoltre ha dichiarato di produrre l'energia tramite un generatore di corrente, ma effettuando un sopralluogo si è constatato che il generatore non era funzionante, sebbene la struttura fosse completamente illuminata. A quel punto ha confessato di non aver mai collegato regolarmente l'albergo alla rete elettrica, ma di aver ottenuto l'energia sin dal 2012, collegandosi abusivamente con le stesse modalità utilizzate per il bar. L'uomo, un quarantene del posto, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per furto aggravato di energia elettrica. Grazie.